Una vera e propria levata di scudi per l'apertura di un nuovo centro di alisi a Torricella, tantissime le prese di posizione come quella del segretario della Will FPL Emiliano Messina, a seguito della unilaterale decisione del precedente gestore di chiudere il centro di alisi l'1 agosto scorso, ricorda, in terza commissione sanità della regione Puglia è stata chiarita la completa impossibilità dei centri di alisi esistenti in quanto saturi di sopperire la chiusura del centro chiuso. Il Consiglio di Stato inoltre ha chiuso definitivamente la battaglia giudiziaria che ha riconosciuto il buon operato della regione dell'ASL Taranto nell'avvio e finalizzazione delle procedure di revoca dell'accreditamento alla società NefroCare, colpevole di aver chiuso senza autorizzazione il centro di alisi di Torricella. Providenziale l'intervento del direttore generale della ASL di Taranto Vito Gregorio Colacicco, aggiunge Messina, che ha chiaramente ribadito che il fabbisogno di posti rene nel distretto sociosanitario 7 è superiore alla capacità ricettiva della presidio ospedaliero di Manduria. Finalmente, spiega il segretario Will FPL, è stato scardinato il muro che si frapponeva la riapertura di un nuovo centro di alisi. L'ANED Puglia chiede a Gran Voce che entro e non oltre sette giorni la regione Puglia ponga in essere l'apertura di un nuovo centro di alisi, in un distretto rimasto da ormai un anno privo di copertura. Concordi sull'argomento anche CISL FP, il consigliere regionale PD Michele Mazzarano e il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia da Roiaia, il consigliere regionale di Forza Italia Vito De Palma, nonché tutti i sindaci del versante orientale. Grazie a tutti.